Se un anno fa mi avessero detto che mi sarei ritrovata a condividere una casa in Tasmania, quindi dall'altra parte del mondo, con altri due pellegrini del cammino di Santiago, non ci avrei mai creduto. Chi sono io per non approfittarne di questa situazione veramente inverosimile e farvi vedere per la prima volta un punto di vista diverso di quello che è stato il cammino. Perché abbiamo altri due pellegrini che hanno fatto due cammini diversi e il caso ha voluto che abbiano fatto proprio i due cammini di cui spesso mi avete sentito parlare. Perché abbiamo Alessio che ha fatto il cammino francese e Andrea che ha fatto invece il cammino portoghese della costa. Quindi direi di iniziare con una brevissima presentazione ragazzi, ditemi un po' chi siete, cosa fate, cosa facevate quando avete deciso. Adesso andassamo un po', non c'è senza perfezione perché. Io mi chiamo Andrea Tordoni, mi sono trasferito da poco in Australia, prima vivevo in Italia, facevo il parrucchiere. Che cammino hai fatto? Ho fatto il cammino portoghese della costa. In che periodo? Costa e interna, e centrale, diciamo li ho mixati. Ah ok, quindi non hai fatto proprio solo il cammino della costa, l'ho fatto io. No, volevo vedere diversi paesaggi e quindi ho scelto bene, dato che avevo due varianti, di farle entrambe. Entrambe, diciamo dai, facciamo tutto. E senti, in che periodo sei partito tu? Sono partito a fine settembre. Comissione. Perché poi a fine ottobre sarei partito per l'Australia, quindi avevo, diciamo, del tempo da sfruttare bene e l'ho sfruttato in questo modo. Io mi chiamo Alessio, appunto, trent'anni, trent'anni. Tratt'anni? Tratt'anni anche tu hai trent'anni. Tratt'anni, madonna che ha cinqueata vincente. Conciani, precisi, sì, sì. E Alessio Decian, di Belluno, quindi nord-est Italia, si sente, bello accento strong. E in Italia facevo l'insegnante di educazione fisica e facevo l'allenatore di calcio. Ho fatto il cammino francese, la mia variante francese, il cammino cosiddetto principale, quello più frequentato. Piano queste parole, non siamo di parte in questa conversazione. E quando l'hai fatto? L'ho fatto l'anno scorso, quindi 2022. Pochissimo dopo che l'ho fatto io. Esatto. Perché io finì il mio cammino all'11 giugno, arrivai a Santiago e tu sei partito poi subito. Come ho detto dopo, tre settimane dopo sono partito io. Quindi abbiamo anche due periodi di tempo diversi. C'è un po' dopo, vabbè, facevo un peccato di anno dopo in Australia. Comunque, bello, bello, mi piace queste due prospettive come avevo un po' annunciato, completamente diverse. Vi farei una prima domanda uguale ad entrambi e poi vi ho preparato cinque domande diverse che pescherete a sorpresa. La pochè. Esatto. In questa bellissima insana sera e uno di voi mi dirà un po' la sua riguardo. Ok, vai. Ma prima di tutto, perché avete scelto proprio questo cammino? Sappiamo che i cammini di Santiago, questa è una cosa poco conosciuta, non ce n'è solo uno, perché uno dice sempre il cammino di Santiago. In realtà i percorsi tra cui scegliere sono tanti e sono diversi. C'è il cammino francese, il portoghese, c'è l'inglese, c'è la via della Plata, la via del non so che altro. Ce ne sono una serie. Però voi avete scelto proprio come vostro primo cammino di Santiago il francese e il portoghese. A te cosa ti ha spinto a scegliere proprio quel percorso lì? Che tra l'altro dici un po' da dove parte, dove arriva ovviamente, quanto dura e che difficoltà. Io ho scelto il cammino portoghese innanzitutto per una questione di tempo. Completo parte da Lisbona, poi ha più varianti, ho scelto di fare la litorale, poi durante ho cambiato e ho fatto anche un pezzo di centrale. Sono totali 630 chilometri se non sbaglio, vado a memoria, ma io l'ho fatto da Porto. Ok, quindi l'hai fatto da dove sono partita io, quindi da metà percorso, perché come diceva Andrea giustamente, il portoghese fa Lisbona-Santiago, però si spezza a Porto, che è il punto in cui la città principale da cui molti partono e da cui si diramano un po' quelli che sono i due cammini, perché c'è chi sceglie la costa, chi sceglie il cammino centrale, che invece il mare non lo vedi quasi mai. E poi si ricongiungono un attimo prima di Santiago, proprio due tappe di Santiago. E come mai hai scelto proprio, a parte il tempo, questo percorso qui? Ho scelto questo percorso perché io adoro il mare e l'idea di camminare lungo spiaggia mi emozionava, quindi per questo. Però poi sei andato sul centrale. Poi sono andato sul centrale, perché bello sì, ma non troppo. Hai fatto le prime due tappe con la giusta, non troppo non troppo. Bello, però volevo vedere anche altro, perché è bellissimo camminare con accanto l'oceano, però è un paesaggio un po' più ripetitivo. Ok, cioè questo è un po' l'ho vista un po' così. Poi questa è stata una mia percezione personale ovviamente, e quindi quando ho sentito che era abbastanza mi sono spostato sul centrale. E ci hai messo quanti giorni per fare questo? Dieci giorni. Dieci? Io mi ricordo ce ne emessi undici, però feci quello della costa, che secondo me era un pochettino più... Ma poi ti dico il perché. Perché? Ci ho messo dieci giorni. Ok. Perché ho valutato un po' le tempistiche, quindi una tappa l'ho dovuta saltare. Ah, perché non ce la faccia tornare in tempo. Avevo sopravvalutato le mie capacità, e quindi a metà percorso ho detto ok, cioè mi sono dovuto fermare prima in una tappa che avevo previsto farla più lunga. E come hai dovuto rimediare il problema? E quindi ho detto ok, va bene, domani prendo il bus, prendo il bus, vado... Lo so. Questo non lo sapevo. Ora che si è detto... Ammetto. L'ha detto ragazzi, vabbè. È mia colpa, è mia condizione. Però... Ho preso il bus e ho dovuto saltare una tappa, perché altrimenti non sarei arrivato quel giorno a Santiago. E tu avevi bisogno che hai già il volo, dovevi tornare per lavoro, eccetera. Esattamente. Bello, questo è stato un colpo di scema ragazzi. Ammetto le mie cose. Vi ricordo, vi ricordo che anche la sottoscritta si fece una tappa del cammino portoghese in treno, perché io ebbi nove giorni di diluvio universale su undici, che ho vissuto in maniera molto intensa, devo dire, e mi ricordo che quel giorno arrivai proprio all'estremo delle mie forze. E lì la vocina dentro di me, reduce del cammino precedente, disse Sì, sei fortissimo, puoi fare qualunque cosa, ma ricordati che sei umana e che il cammino è fatto anche e soprattutto per imparare ad ascoltarti. Quindi non solo per andare contro tutto, tutti e spaccare il mondo. Quindi è buono ammettere che il cammino è anche questo, imparare ad ascoltarsi e sapere come rimediare i propri errori, possiamo dire. E tu invece perché hai scelto il cammino francese? Guarda, io ho scelto il cammino francese perché... Che è un po' il più conosciuto, ma anche il più trafficato, è molto spaventa questa cosa. È vero che il francese è più conosciuto, indubbiamente, come però io ho sempre detto, è anche quello in cui vivi di più, quell'aria del cammino che si crea, perché le persone che vengono da tutto il mondo, è quello più storico, più conosciuto, quindi tante cose sono anche più intense. Purtroppo devi beccare il periodo giusto, io non consiglio mai di partire d'estate sul francese, tu ci racconterai l'estate sul francese. Non ti vedi che è bello ambroncato, ancora! Sul francese d'estate è più impegnativo, possiamo dire. E tu perché hai scelto proprio il francese d'estate? Perché in realtà questo non è stato il mio primo cammino, quindi avevo già fatto due cammini in Italia, però la via degli dei e la via francigena, solo una parte, quindi da Lucca a Roma, che sono comunque, ho 19 giorni, avevo camminato 19 giorni, ho scelto il francese perché volevo provare un'esperienza ancora più lunga, ok? Quindi dopo aver fatto quei 19 giorni sulla via francigena, mi sono detto dai, so che più o meno è un mesetto da fare sul francese, e quindi, ma non per fare, come dire, un'impresa ancora più grande, ancora più lunga, volevo provare a vedere se la mia mente soprattutto, ma anche il mio corpo... Certo, bravo, ragazzi, hai detto una cosa importantissima! Esatto! Ma anche il mio corpo avrebbero potuto resistere ed apprezzare un cammino ancora più lungo. Bella questa cosa di la mente, no? Perché si pensa sempre che il cammino sono le gambe che vanno avanti e le conseguenti ginocchia, vescica, piedi... Il cammino è tanto qua! Assolutamente! E chi arriva fino alla fine è perché ha questo più forte del resto, non perché è più preparato fisicamente. E comunque si può fare anche a luglio, nonostante sicuramente... È sopravvissuto, quindi si può fare! Sì, non è sicuramente il periodo migliore, ma io l'ho fatto a luglio perché legato al lavoro che facevo, insomma, da insegnante a luglio ti liberi per quel mese di torno e mezzo, quindi sono subito partito. Tra parentesi ho incontrato tanti insegnanti giovani, quindi effettivamente... Ti immagino il periodo dei professori! Sì, infatti scappi dal cuore e ti ritrovi ancora insegnanti. Un ruolo di insegnanti! E avevo anche io un po' il timore, tra virgolette, di trovare troppa gente perché appunto effettivamente è quello più trafficato e il periodo è sicuramente quello peggiore, se vuoi, da questo punto di vista. Però è stata molto vivibile, non è stato assolutamente un problema. L'unico problema è stato per gli ultimi 100 km. Anche nel mio periodo gli ultimi 100 km erano quelli più impegnativi in termini di gestione proprio delle tempistiche, delle persone, c'è tanto più traffico. Ci sono i famosi turigrini, che è una parola non so se l'avete mai sentita. Sono i turisti pellegrini, cioè quelli che vengono a fare il cammino di Santiago fanno gli ultimi 100 km che non giudicano, non ho niente a chiedere riguardo, ma oggettivamente lo vivono in maniera completamente diversa e lo vivono anche in maniera completamente diversa da chi invece sta camminando da 800-700 km. E mi è venuta una domanda al riguardo, perché questa è una cosa che spaventa molto le persone che partono a luglio. Hai mai trovato troppo traffico, tanto da non trovare posto a dormire? Allora, solamente due volte, adesso perdonatemi ma non mi ricordo di preciso dove, in quale tappa, però era in prossimità degli ultimi 100 km, ho trovato posto, ma semplicemente perché sono partito presto, al mattino, e sono arrivato quindi presto a destinazione. Arrivare presto per me vuol dire prima di mezzogiorno. Questo significa che partivi alle 5. Sì, anche prima a volte. Eh, so bene, nel cammino. Fino del cammino, esatto. Però ecco, in questo modo sono riuscito a trovare posto, ho visto persone arrivare dopo l'una, dopo le due del pomeriggio e non trovare posto. E hai mai avuto paura tu personalmente? Dici, se non trovo posto, cosa avevi pensato di fare? Guarda, sono comunque sempre stato abbastanza sereno perché le alternative ci sono sempre. Quello che trovi è. Sì, chiaramente... Devi saperti adattare. Esatto, devi saperti adattare, devi essere disposto magari a fare qui 3 km in più. O il meno, io credo qualcuno che tornava indietro, se la tappa avanti era troppo lontana, tornavi ancora indietro. Esatto. Oppure, io ho sempre detto, una panchina è sempre un'ottima soluzione. Oppure, addirittura arrivare a bussare alle porte delle persone. Ragazzi, le soluzioni ci sono sempre. E più viaggi, più proprio ti rendi conto che tante cose, tante paure che noi abbiamo, tante preoccupazioni che creiamo, si risolvono così, nel giro di poco. Ed è più la voglia che hai di metterti in gioco, di superare un po' quelle che sono i tuoi limiti, le tue preoccupazioni, la tua comfort zone. E poi la soluzione è lì, è lì fuori. E io non li conosco, ragazzi, come Edoardo, il mio amico di cui vi parlavo. Lui rimase senza posto a dormire e si ritrovò a passare una delle sue più belle notti, sotto le stelle, in un sacco a pelo che non scaldava niente, però insieme ai suoi amici e me l'ha raccontata come una delle notti più belle che lui abbia mai passato. Sì, è quello anche che ti insegna il cammino, no? Di arrangiarti anche un po' con le tue forze, di tirare fuori, diciamo, il selvaggio che è in te. Esatto, esatto. E' parte del rischio. Eh sì, e soprattutto non reagire subito distinto e dire, Oddio, no, ma perché? Che sfiga! Anzi dire, fermi tutti, qui c'è un qualcosa di diverso da affrontare. Questo secondo me è importante farlo nella vita. Assolutamente. Quando hai una difficoltà, invece che piangerti addosso, sentitela questa. Ogni difficoltà c'è un'opportunità di crescita o di... Esatto. Piuttosto che un insegnamento. Non a caso, qual è quella grande cosa che si dice sempre sul cammino? Che il cammino è un po' la concentrazione della nostra vita in un periodo breve di tempo. Vediamo tutto lì, vediamo le difficoltà, il modo in cui noi reagiamo, vediamo il rapporto con gli altri, costruirsi dal niente e diventare molto più grande di quello che pensavamo. Vediamo le soddisfazioni, ma anche il dolore, vediamo la felicità, ma anche la sofferenza. Tutto lì, concentrato in quella bolla, quella che ho sempre io, che è il cammino. Comunque, io direi che da bella attruzione l'abbiamo fatta. Possiamo passare le domande. Siamo, vai, dobbiamo partire con un botto. Con un botto. Chi vuole iniziare? Prego. Ok, grazie. Che pescine. Qual è la difficoltà più grande che hai dovuto affrontare? Questa è un prima, durante e dopo, quindi l'avevo intesa come proprio... Allora, io la mia più grande difficoltà che ho dovuto affrontare, l'ho dovuta affrontare durante. Riavvolgo un po' il nastro. Io sono partito per il cammino, anche ovviamente come tutti, per stare da solo. Ok. Avevo bisogno di stare da solo. Dopo il terzo o quarto giorno che ero partito per il cammino, ho avuto un attacco di panico. Colpo di terra. Te lo dico com'è andato. Questo è anche bello. Ho avuto un attacco di panico perché mi sentivo solo. Per assurdo. Per assurdo. Non volevi la solitudine. Volevo la solitudine. Adesso te la vecchi. È stata la mia più grande difficoltà e è stata, al tempo stesso, anche una delle cose più belle che ho vissuto durante il cammino. Più intense, sì. Sì, è stata la cosa più brutta perché è stato in quel momento terrificante perché io non ho mai provato una cosa del genere, fortunatamente. Però evidentemente l'avrei dovuta sperimentare. Sperimentare e al tempo stesso è stata anche la più bella esperienza perché da quel momento, dopo averla superata ovviamente, da quel momento, perché in quel momento era stato veramente terrificante. Già dopo dieci minuti dopo il mio cammino è cambiato da così a così. È stata proprio un susseguirsi poi di emozioni, di persone splendide. Quindi hai incontrato quelle persone. Assolutamente. Magari ti hai accolto anche in modo diverso perché è un conto che spatti che vuoi stare da solo. Però poi quella solitudine magari l'hai raggiunta, hai raggiunto proprio l'abice e poi ti sei detto magari ora sono pronto a... Brava, ho avuto proprio uno switch di approccio. Fino a quel momento non mi stavo nemmeno aprendo all'esperienza attivo. Perché te eri avevo creato una bolla, no? Sì. E mi piace questa cosa che uno sottolinea il fatto che tutto questo a te è successo in dieci giorni praticamente. Sì. Ed è assurdo quando si racconta del cammino, questa è una cosa che rivedo in tanti pellegrini, sembra che parliamo a volte di cose che sono durate un anno e invece è tutto concentrato lì. Perché il cammino è così, vivi tanto tutto insieme. Questa non è una cosa che mi sorprende, che tu abbia avuto da un giorno all'altro un cambio di prospettiva, di approccio e la tua esperienza è cambiata completamente. Sì, questo credo che sia anche dato dal fatto che sei totalmente fuori dalla tua zona di comfort, costantemente, cioè non sono sprazzi di uscita dalla zona di comfort, sei dal giorno alla notte fuori dalla tua zona di comfort. Quindi devi sempre riadattare subito. Hai persone diverse accanto a te, cammini diverse persone, arrivi in ostello diverse persone, diverso background, diverso foto. Quindi devi per forza sempre riadattare, rimettere in gioco immediatamente, è un tipo un proprio spirito di adattamento. Esatto, sembra che il tempo poi si dilata, non passa mai, diciamo le giornate ti durano 48 ore. E quello è anche il bello perché ti senti vivere e quindi è normale, penso che ci siano anche questi momenti. Poi ovviamente io questo momento l'ho superato grazie alla persona che ho accanto nella vita. Telefonicamente però. Telefonicamente. La Sofia qui adesso ci sta vedendo dal backstage. Mi ha aiutato lei a superare questo problema. Me l'ha fatto vedere un po' dall'esterno, esatto, da un'altra prospettiva e poi sono andato in un treno, sì. Via, a Santiago, però sempre in ritardo di un giorno. Sempre in ritardo di un giorno. Non chiediamo neanche incidenti di percorso, ma a proposito, guarda ti faccio uno spoiler, visto che ormai lui il suo errore tempistico l'ha detto, lui ha sbagliato, se dovessi dire il tuo errore quale sarebbe? Sì, quello. Invece di aver fatto male i conti. Di aver fatto male i conti e devo ringraziare una signora Lucia che da quando l'ho incontrata è stata la mia guida. Cioè mi ha sensibilizzato un po' su alcuni aspetti del cammino, quindi poi ho iniziato a rivalutare anche dislivelli che io non avevo considerato un minimo di dislivelli. Infatti avevo considerato una tappa corta di 16 chilometri, l'avevo accortata un'altra di altri 20 minuti d'ora. Una tappa di 36-40 chilometri un giorno e poi continuo sulle tappe normali. Solo che la tappa da 16 chilometri praticamente aveva un dislivello allucinante. Questa è la classica di chi si informa ma non troppo. Esatto, esatto. Perché è proprio la nota giusta, magari. Sì, sì, poi ho avuto questa santa donna e mi ha aiutato. Ti ha l'attore realdrizzato. E tu invece se dovessi dire qual è l'errore più grande che hai compiuto sul cammino? Allora, sul cammino di Santiago non ricordo errori veri e propri. Non perché sono... No, il guru dei cammini qua. Stai, fai 900 chilometri e non fai errori. No, spiego il motivo. Perché essendo la terza mia esperienza, durante la prima... Sbaglia una, sbaglia due. La terza. Sbaglia la terza. E quindi, diciamo, nelle cose che di solito possono creare più problemi, ero pronto, ero preparato. Però le cammini precedenti? Posso dire qual è stato probabilmente l'errore più grande. Se no ci vuoi fare un puntafino. No, no, no. L'errore che ho fatto sicuramente durante il mio primo cammino, quindi la via degli dèi, che per chi non lo sapesse è breve. Breve ma intensa. Breve ma intensa, sono 120-130 chilometri, però con dislivelli abbastanza, insomma, notevoli. Qual è stato il mio orrore quella volta? Affrontare il cammino con scarpe e calzature, anche calzini, sbagliati. In realtà non erano neanche delle scarpe... Non erano neanche delle scarpe terribili. Non erano terribili, però erano abbastanza pesanti. Altro cammino affrontato d'estate, per i motivi detti prima. Magari piedi gonfi. Problema più grosso qual è stato? Vesciche. Al terzo giorno avevo 13 vesciche. No! E concede? Contate tutte. Ma certo non avevi linee disponibili per altre vesciche. Fermi un attimo che qua li stiamo spaventando. Secondo me qua c'è qualcuno che sta abbandonando l'idea di fare il capire. Ragazzi, è vero, purtroppo succedono queste cose. Ci sta. A parte del percorso, ma hai detto una cosa giustissima. Ho affrontato il cammino con le scarpe e con i calzini sbagliati. E io sono una che soffre di vesciche, le potete vedere anche ora sui miei piedi. Praticamente nella mia vita, nella mia quotidianità, come ho imparato ad affrontarle, come lo affrontate sul cammino, con i calzini e le scarpe giuste. Perché esistono dei calzini tecnici che vi farà un po' impressione pagare un paio di calzini 14-15 euro, ma vi salvano la vita. Perché io sul cammino di Santiago, 900 km, avevo tre paio di calzini tecnici, non ho avuto... Ho avuto una vescica. Una, per me, è stata una cosa assurda. Scarpe giuste di... Io le ho prese personalmente una taglia e mezza in più da trail running, che erano quelle che mi hanno consigliato. In quel modo, per esempio, io ho avuto una vescica su tutto il cammino. E oggi, se mi vado a fare una passeggiata con un paio di scarpe normali e con un calzino qualsiasi, mi vengono le vesciche dopo un'ora di camminata. Quindi, errore suo perché non sei informato prima, però poi dopo l'errore che hai fatto sul cammino di Santiago, per 900 km, hai più avuto vescica? Una. Però stiamo parlando di 900 km, per me ti poi d'estate, anche quello col caldo ti... è anche più facile che... Io se posso dare un consiglio, oltre scarpa e calzino adatto, una crema anti-sfregamento o un olio anti-sfregamento. O vaselina. Io mi sono preparato malissimo a livello di camminata, ma mi sono preparato stra bene a livello di persona e di apprezzatura. Preparazione o peggio. Esatto. E questa sì, la crema anti-sfregamento che io mettevo prima di partire e anche la sera. Ma anche io mette per l'altro la normale crema idratante. Sì, esatto. Crema idratante è proprio la classica, mattina prima di partire, sera appena fatta la doccia ed è un modo ottimo per prevenire. Esatto, quando hai una buona scappa, un buon calzino che abita anche l'olio anti-sfregamento e una crema, un olio anti-sfregamento. Io non ho avuto una vescica, ho fatto 300 km, non ho avuto una vescica. Grandi ragazzi. Chiudiamo il cerchio consigli lo zaino, anche lo zaino va, sì, per se permetti. Prego, la dica. Anche lo zaino è fondamentale per riuscire a distribuire il peso in maniera corretta. Sempre le cinghie, ve l'ho detto mille volte, ma lo sentite adesso anche da altri voci. È stato l'investimento più importante fatto, ma è stato l'investimento. Quello che si chiude con la cinghia giù, con la cinghia su, perché vi toglie il peso dalle spalle. E a proposito della parola peso, mi raccomando, non superate il 10% del vostro peso corporeo. Quella è la scemenza più grande che possiate fare, anche perché, e qui ho due che spero mi confermino, se vi dimenticate una cosa, se c'è proprio qualcosa che non vi siete portate e che ritenete indispensabile, non siete in Burundi, siete in Spagna. Esatto, perché uno pensa, vado a fare il mio centriamo, chissà dove starò. Troverete il modo di acquistare quello di cui avete bisogno, oppure, ancora meglio, troverete un altro pellegrino disposto a prestatelo, quindi non vi riempite di cose. Esatto. Minimo indispensabile. Tre maglietti, due bandoloni, un paio di scape, tre paio di calzini, tre paio di mutante, diciamocelo, e basta. Finita la. Andiamo avanti. Dai, tuo turno. Andiamo a portare le sciacuori. Qual è l'errore più grande che hai fatto? L'abbiamo fatta questa, l'abbiamo appena fatta. Avanti quella prosta. Vabbè, te l'ho detto e ti avevo fatto uno spoiler e non mi aspettavo che l'avresti presa. È uscito subito, è uscito subito. Via. Qual è la cosa che più ti ha stupito lungo il cammino? Sì, è molto difficile. Bella. Bella domanda. Lo sapete che mi piace mettere in difficoltà questo. Allora, la cosa che più mi ha stupito, anche dopo aver fatto altre due esperienze di questo tipo, è effettivamente il mondo che c'è dietro a tutto il cammino in sé. Cosa voglio dire? L'ospitalità negli alberghi, le persone che trovi quindi dentro gli alberghi, l'apertura, la voglia proprio di rendersi utili per il prossimo, per i camminatori, e la qualità anche della gente che trovi lungo il cammino. Perché io dico sempre che quando sei in cammino non ci sono differenze. Che tu sia un lavoratore, non lo so, che lavori in banca, che fai qualsiasi altro tipo di lavoro, che fai un lavoro di quelli che vengono probabilmente in maniera errata considerati di seconda. Sì, inferiori. Ok? Quindi qualunque tipo di lavoro fai. L'età da dove siete tutti uguali, tutti che siete lì per camminare semplicemente, tutti che puzzate come le capre dopo. E non importa più di meno, ragazzi. Esatto. Anzi, si arriva a un punto in cui si fa a gara. Assolutamente. Guarda che i ragazzi mi puzzano più. Quindi a parte gli scherzi veramente, la qualità che trovi nelle persone, e ultima cosa che aggiungo, il modo in cui riesci a legarti con le persone anche dopo due ore o tre ore di cammino. Perché come si diceva prima, cioè il tempo scorre veramente in maniera molto molto più lenta. Una giornata è un'eternità. Assolutamente sì. Eppure, perché poi uno magari si spaventa e dice Oddio, allora anche quei 30 chilometri mi peseranno in maniera incredibile? No. No, perché la giornata dura un'eternità, ma quei 30 chilometri diventano il tuo pane quotidiano. Assolutamente sì. E allora ti chiedo, perché mi hai fatto proprio, mi hai messo subito davanti a questa cosa, ho sentito quest'area forte di cammino, di aiuto, di supporto, di fratellanza, tutto, l'ospitalità, eccetera. Se l'hai detto è perché immagino non l'hai trovato sugli altri cammini? O hai notato più di stacco rispetto ai cammini precedenti? Allora, l'ho trovato, l'ho trovato anche negli altri cammini, però a volte si sentono tanti racconti sul cammino di Santiago. Nei miei altri cammini ho conosciuto persone che avevano già fatto il cammino di Santiago e tutte che dicevano Santiago, cammino di Santiago, ma proviamolo, no? Proviamo veramente se... e obiettivamente c'è un'amplificazione di qualunque tipo di cosa. E questo è il motivo per cui a me quando dicono, ah, ora andrei a fare tutti i cammini d'Italia, è difficile passare dal cammino di Santiago ai cammini d'Italia, che non significa che non li farò. Anzi, io ve l'ho raccontato in questi giorni, a te soprattutto, ti ho detto appena torno in Italia voglio andare a fare la Via degli Dei, voglio andare a fare il cammino dei Borghi Sirenti, il cammino dei Briganti e tutti gli altri cammini, però devo essere sempre consapevole che non sarò la stessa cosa, perché non troverò la stessa storia. Tutto che rende il cammino di Santiago il cammino migliore del mondo, perché oggettivamente è così. Forse anche perché è più frequentato da più culture. Sì, 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 oggettivamente i cammini italiani non troverai mai la stessa frequenza. Io se sto in Australia anche perché con hobby, un ragazzo australiano che mi piace, cioè sono cose che non troveresti. Esatto, esatto, esatto. Quindi oggettivamente... Io credo che poi ogni cammino puoi fare lo stesso cammino cento volte e cento volte sarà diverso l'un dall'altro. Non a caso siamo in tre e penso che abbiamo... ci siamo raccontati la nostra storia. Ognuno l'ha vissuto in modo diverso, proprio. Proprio perché lo fanno le persone. Sì, perché come non è tanto il percorso quanto proprio il modo in cui tu lo vivi e le persone attorno a te, proprio chi trovi, chi trovi attorno a te e chi ti circonda durante l'esperienza. Dai, ce ne abbiamo due. André, è il tuo turno. Quello che mi riviene è la tua destinata. Cosa ti ha lasciato? Il cammino nella tua vita di tutti i giorni. Eh, perché... e qui ti dico una frase... te la butto lì sta frase, eh. Il cammino... Non finisce. Non finisce mai. Quante volte ve l'ho detta questa cosa? Il cammino non finisce. O almeno per me. Cosa mi ha lasciato? E te è finito? Tu senti che è finito a Santiago? No, assolutamente no. Tu ho finito a te, sei arrivato? Eh, sì. È finito lì il cammino? No, no, no. E a te che faccio? No, è vero. Adesso è un... anzi è un punto d'inizio. Quello. Quello è un punto d'inizio. Cosa mi ha lasciato? Cavolo, è difficile questa domanda. Mi ha lasciato la voglia di entrare più in contatto con le persone che mi circondano. Io, essendo nato, vuoi magari perché sono nato appunto in un paesino di duemila abitanti... Che si chiama? Diciamolo. Perché io sono... Si chiama... Bastardo. Io all'IP. Non ho visto che si stesse bastardo. No, ragazzi. Sicuramente c'è qualcuno che lo conosce, che sta guardando questo video e lo conosce. Comunque è un paesino di duemila abitanti, come ogni paesino di duemila abitanti, cresci con una mentalità un po' più chiusa. Quindi quando poi mi sono trasferito a Rimini e ora in Australia, te lo porti dietro un po' quel latteggiamento che hai dai paesino. Familiare. Di non essere troppo espansivo, andare a caccia di nuove persone. Se sei in un bar, attacco bottone con una persona, almeno io magari essendo una persona anche leggermente timida, esatto, facevo difficoltà. Se c'è una cosa che mi sto portando dietro dal cammino è il volere esatto. Cioè incontro una persona, vedi una persona interessante o meno, mi butto. Voglio parlo d'arci, voglio... Ci sto lavorando ancora, non è vero naturale. Ma cosa sta a fare pure con l'altra lì? Ma mi sono portati, esatto. Quindi quando sta a fare un livello pro, cioè... Esatto, ho anche l'altra difficoltà. Però questo, il desiderio, la voglia di creare più connessioni sociali possibili. Perché credo che... Perché le persone... Esatto, in tutto quello che fa, che sia un business, che sia una cena semplicissima, che sia... Anche dal mercato, come è successo ieri. Credo che le relazioni sociali siano la base... C'è una cena sulla torta, ma anche la base, secondo me, del tutto. Mi trovi completamente d'accordo con questo. Tu invece cosa hai portato a casa? Guarda, parto dicendo che secondo me alcune cose ce le portiamo dentro, ce le portiamo dietro e continuiamo ad averle dentro di noi senza saperlo. Cioè, alcune cose io penso che tu sei conscio di averle, di essere migliorato, di averle acquisite. Altre cose probabilmente non te ne accorgi. Però ho trovato persone che mi hanno detto, sai che da quando sei tornato ti ho visto più così, ti ho visto... Quindi da fuori, secondo me, le persone che già dicono... Tu magari non te ne rendi più conto. Esatto, esatto. E in automatico, dentro di te sicuramente qualcosa cambia. Un'altra cosa che posso aggiungere, penso di essere migliorato in generale e penso di riuscire a vivermi la vita in maniera più semplice. Quindi senza la necessità di desiderare chissà cosa, chissà quante cose materiali, chissà... Il semplice... Perché non abbiamo vissuto con niente. Bellissima questa cosa, esatto. Sicuramente hai visto che durante il cammino ti bastava veramente poco. Non ti serve niente. Non ti serve niente. C'è la tua vita in uno zaino. Assolutamente. E questo, vi metto un po' insieme le vostre due cose e dico... Mi ci rivedo assolutamente, ma questo lo resta un po' a saperlo. Ma questa cosa in particolare delle relazioni e del vivere con niente, secondo me è proprio il fulcro stesso dell'esperienza. Dopo quella è inevitabile, secondo me, e poi c'è chi magari non ci ha fatto manco caso, è inevitabile che tu senta tanto più bisogno di connetterti con le persone. E in un modo, sottolineerei, anche molto più puro, semplice e diretto e mettendoci il cuore, cioè andando oltre, sempre un po' oltre, il famoso anche ultraia, la parola che forse avete già sentito nominare ogni tanto sul cammino. In più, l'imparare che hai bisogno veramente di poco, ma un poco non solo, secondo me, materiale, ma anche in termini di relazioni, come il fatto di dire basta veramente poco per creare un'amicizia per sempre, basta veramente poco per superare una difficoltà, per lasciare andare una paura, basta poco. E in più ti bastano poche cose materiali, uno zaino da 40 litri per me è stato abbastanza, è quello che poi mi ha accompagnato in tutti gli altri miei viaggi di un mese, di un mese e mezzo, di due mesi altrove. Ad oggi, in Australia, io ci sono, come avete visto l'altra volta arrivare qui, con uno zaino da 55 litri, 60 forse proprio, in più c'è lo zaino dell'attrezzatura che è tutta la tua storia, ma tutti i miei vestiti, le mie scarpe, i miei prodotti, eccetera, sono in quei 60 litri e va bene così. E se mai avessi bisogno di qualcosa so che lo acquisterei, questo è sempre il soggetto. Riesco, vuoi anche perché sono un appassionato di meditazione, riesco molto di più a accorgermi delle emozioni che stanno avendo luogo dentro di me e a gestirle, anche e soprattutto per le brutte. Eh, questa è una cosa che nessuno ci insegna, nessuno ci insegna a gestire le nostre emozioni e queste esperienze, questo tipo di esperienze certe volte sono veramente formative, a mio parere, per imparare a conoscerci meglio, a conoscere meglio gli altri, a sapere come gestire tutto ciò che scaturisce da incontri, momenti, azioni, problemi, successi e tutto il resto. Ragazzi, siamo arrivati a quella che è l'ultima domanda e questa volta me la leggo io e sono estremamente felice che, caso vuoi, è rimasta proprio come l'ultima domanda. Non guardo. Siamo spacciati. Questa non la faccio uno dei due, questa la faccio di entrambi, ma decidete voi chi è il primo a... Ah, proprio così. Tutto il peso. Il centro di tutto questo è la famosa domanda, te l'avranno fatta già mille volte, quindi per una volta ci vorrei già forse la risposta pronta, ed è perché hai scelto di fare il cammino? Uh, chiudiamo con il po' il bar. Allora, posso darti due risposte a questa domanda? Sì, dai. Molto brevemente. Va bene, dai. Perché ho deciso di fare un cammino, il primo cammino. Ah, perché tu giustamente c'hai la questione. Diciamo, cosa ti ha spinto, non ti chiedo il cammino di Santiago perché più o meno ce l'hai già raccontato, ma cosa ti ha portato su un cammino? Esatto. Mi ha portato su un cammino un problema al cuore che ho avuto qualche annetto fa, se non sbaglio era il 2018, esatto. Per farla brevissima, con questo problema al cuore all'inizio non potevo più fare attività fisica, dopo pian pianino ho potuto riprendere e cosa potevo fare? Potevo solo camminare. E qua ci vorrebbe la canzone 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi di camminare. E per cui mi sono detto, vabbè, all'inizio ho detto che vabbè. Sì, però arrivi in corso del mercato, voglio dire. Quindi da, come tante volte diciamo, dalle sfortune, dalle cose negative bisogna provare a trovare la soluzione positiva. Ho iniziato a camminare nelle montagne che ci sono vicino a casa mia, in Italia. E a un certo punto ho detto, proviamo a fare qualcosina di più, grazie anche ad un amico che mi ha lanciato l'idea, mi ha proposto di fare la Via degli Idei, che appunto è stata la mia prima esperienza. E ho deciso di provare a farla, un po' per, neanche tanto come sfida nei confronti di me stesso, ma l'ho vista come una chiamata per provare a ripartire, provare a rinascere. Ed effettivamente, sì, dopo aver fatto il cammino, anche se per pochi giorni, ho detto, caspita, sono riuscito a farcela, nonostante il problema fosse quasi risolto del tutto, ma comunque ancora un po' presente. E ho detto, sai che mi sento veramente rinato, mi sento... Sei ripartito. Mi sento, sì. Ma non a caso, ricordiamocelo dove siamo ragazzi, siamo in Australia, quindi... Siamo ancora camminando. Qualcosa è cambiato, ovviamente in tutti noi tre qualcosa è cambiato. E secondo me se siamo proprio in Australia in questo momento non è una coincidenza. E ce n'abbiamo un perché qui al mio lato destro. Ce ne abbiamo più di uno. Ho avuto il tempo di pensarne. Però ma è il... Principalmente, come dicevo prima, venendo da un periodo in cui, proprio da cui mi volevo allontanare, con varie... Alti e bassi. Alti e bassi, sì, esatto. Nella vita quotidiana e lavorativa, appunto il mio desiderio era di stare da solo, prendo, parto da solo e cammino. In più, proprio per questa cosa, da un po' di anni avevo l'idea... Volevo fare un viaggio da solo. Non ho mai fatto un viaggio da solo. E mi sembrava figa come esperienza da fare. E quindi ho detto, vado a fare il cammino da solo. E quindi questo è il secondo motivo. E sei riuscito effettivamente a, diciamo, soddisfare... Sì, esatto, dovevo provare a me stesso che sarei riuscito a fare una cosa del genere. E quindi avevo il desiderio di dimostrare a me stesso, o il bisogno, non lo so... Di dimostrare a me stesso che sarei riuscito a fare una cosa del genere. Eh, io vi rivedo molto in tutto perché. Il mio principale perché è questo. Questa è un po' quella che è stata sempre la mia risposta al... Poi ci ho messo sempre insieme anche un'altra, però il voler dimostrare a me stessa... Sai quando, poi come donna, soprattutto, purtroppo, cresci con una miriade di cose che non potrai mai fare. E tra questo c'è il viaggiare da sola, ma c'è banalmente il fare un cammino da sola. Una donna che fa un cammino da sola, oh mio Dio! E io invece sono andata a me e ho detto, lo voglio dimostrare anche agli altri. Ti dico la verità, lo ammetto. Ma prima di tutto a me stessa voglio mostrare che io ce la posso fare. Tra l'altro io ne ho incontrate tantissime di donne in solitaria. Anche più piccole di me. E due di queste sono state mie compagne di viaggio per qualche giorno. Perché noi soli non se fai. Ci sentiamo ancora oggi perché... Esatto, si crea un legamo a scuola. Sono due persone meravigliose. Esatto, e poi da soli non si è mai. Cioè sì, questi due ragazzi sono partiti da sole, però poi sono diventate amiche tra di loro, amiche con te. E quindi la solitudine è un po' anche qualcosa che tu impari a gestire e decidi come gestire in base a come ti senti quel giorno. Se vuoi camminare da solo, camminerai da solo. E i tuoi amici, se sono diventati veri tuoi amici, non avranno problemi a dirti vai, ci vediamo alla prossima tappa, ci vediamo a Santiago o ci vediamo quando torniamo in Italia. O in chissà dove in giro per il mondo. E questa è una cosa importantissima riguardo alla solitudine. da tenere sempre in considerazione, assolutamente. E però io sono riuscita a dimostrarmelo di poterlo fare. Ed è stato bello anche raccontare nel frattempo, perché un po' documentavo nel mio piccolo, il mio percorso su Instagram e vedere quante persone si sono sentite. ispirate, magari una volta non me la sento di questa parola, che la vedo troppo grande. Però hanno sentito tantissime ragazze questo richiamo, questo voler dire, ce la posso fare anche io. E tantissime ragazze, dopo un po' il mio racconto, sono partite allo stesso modo. E per me questa è stata la soddisfazione più grande, che nel mio piccolo non ho portato solo a me stessa il coraggio e la dimostrazione di potercela fare, ma poi anche ad altre persone. Quindi è anche il motivo per cui siamo qui oggi, di condividere con voi tre storie diverse, tre racconti diverse, prospettive diverse, su quella che è stata un'esperienza, che forse è un po' troppo dirlo, penso ci abbia cambiato la vita. Assolutamente, assolutamente. E se non lo fa nell'immediato, lo fa nel lungo termine. Bravo, alcuni arrivano a casa di Santiago, che si sentono, pensano di arrivare e sentirsi cambiati. Io dico sempre, aspetta, il peggio deve ancora arrivare. Il maessio, qualcosa cambia dentro di te, ma non te ne accorgi. E viene poi anche nell'anno successivo, no? Sì, sì. È dilazionato anche in un periodo di tempo così lungo che non te lo aspetteresti mai. E ragazzi, penso che posso farvi la domanda finale, così concludiamo questa bellissima conversazione. Se oggi aveste di fronte a voi, perché ce l'avete, guarda, sono tutti lì, qui dentro, aveste di fronte a voi qualcuno che vorrebbe intraprendere il cammino di Santiago, qual è quel consiglio che vi sentite di dare? Programmarlo. Ma non troppo, però. Non troppo. Perché tu eri programmato e ti sei trovato dei casini. Sì, esatto. In tutto e per tutto, almeno per la struttura del paesaggio e di slivelli. Esatto. Io assolutamente sono d'accordissimo, come ho fatto anch'io. Ho preso una guida, capire quanto sono lunghe le tappe, capire i dislivelli, i percorsi, le tempistiche. Tutto questo però senza avere una preparazione troppo meticolosa dei giorni. Perché io ho fatto questo, ma lo consiglio a tutti, prendere il biglietto di andata, sai quando parti, se hai un minimo... Questa cosa, guarda, ti dico che l'ho scritta a caratteri cubitali nella mia guida. Ecco, certo. Io ho fatto il cammino e mi sono resa conto di quanto mi aveva fatto proprio piacere condividere le informazioni che riguardavano il cammino, anche per istruire, informare tutti i ragazzi che hanno iniziato a seguirmi proprio per questo scopo. È stato bellissimo poi dare dei consigli che a volte uno non si aspetterebbe, no? Perché molti si aspettavano, quindi dicessi, prendi il biglietto di ritorno dopo un mese preciso, dopo 32 giorni? Non esiste. Io ho detto, no, il biglietto di ritorno non si prende. Come, da una parte ho detto, programmatelo, però non programmatelo troppo, perché te ritrovi nei casini, cioè, non programmatelo, informateli, ma non informatevi troppo. Sì, perché è il bello anche andare... Sono d'accordo sull'informarsi sui dislivelli, sulla lunghezza delle tappe, cosa importante da sapere ogni mattina, quello c'è una guida su delle terre di mezzo, a mio parere, è quella a cui non so voi mi sono trovata meglio, perché è quella in cui proprio ti parla dettagliatamente di tappa per tappa, cosa che non ho fatto io nella mia guida perché mi sono detta, io non vi voglio dire tappa per tappa come sono strutturate, eccetera, eccetera, perché vorrei che nessuno si legasse troppo al concetto di tappa ufficiale. Non so se voi avete mai sentito questa frase, le tappe ufficiali non esistono. Questa cosa sempre di voler definire, oggi devo fare tot chilometri, tu oggi non devi fare proprio niente, tu oggi devi iniziare a camminare, farti un'idea di dove vuoi arrivare e decidere. Per me questo è il modo giusto in cui si vive il cammino e nel mio racconto ho cercato un po' di trasmettere questa cosa, dando ovviamente le informazioni tecniche e informative importanti per affrontarlo come sempre al meglio. E vi chiedo, voi avete mai programmato effettivamente tutte le tappe che avreste fatto prima di partire? Allora, io dico la verità, mi ero programmato una linea guida, ok? Perché comunque... Te hai fatto un'idea. Esatto, una linea guida generale. Alla fine ho impiegato lo stesso numero di giorni che mi ero prefissato a grandi linee, ma con step diversi. Ah, è andato fuori da quelle che sono le tappe ufficiali di cui sembra che sempre tutti parlino, ma in realtà... No, assolutamente, assolutamente. Anche perché per esempio è successo una volta che con il gruppo di ragazzi e ragazze con i quali ero, ci eravamo prefissati di arrivare ad un certo punto, io quel giorno ero cotto, distrutto, avevo dormito malissimo la notte precedente, quindi anche qua, riferimento quanto detto prima, ascoltare il corpo, ascoltare la mente, eccetera, sei stanco, non è più, fermati e il giorno dopo eventualmente fai i chilometri. Esatto, perché il riposo è quello che poi ti porta a lavorare a fare il giorno dopo. E questa è una cosa bellissima che poi sul cammino si crea questa cosa di inseguirsi un po' tra amici, tra conoscenze. Però d'altra parte, tante volte ci si deve perdere, è successo a me di perdersi e ritrovarsi, magari a Santiago, magari in quella tappa in cui non avresti mai pensato, io ho ritrovato amici che erano andati avanti di due tappe in più a me in un momento in cui non l'avrei mai detto, magari perché proprio il cuore gli ha detto io mi devo fermare qui un giorno in più e alla fine il cammino ti fa incontrare, quindi programmare sì ma non troppo, informarsi sì ma il giusto, c'è sempre un po' questa cosa di non esagerare. Anche io ho fatto la stessa identità cosa, mi ero dato ovviamente uno schema ideale di tappe, poi me l'ho accorto. L'hai riadattato, l'hai riadattato, anche con un cambio di programma bus che non era sicuramente previsto. Esatto, esatto, quindi l'ho dovuto travolgere tutto. Però è? È la metà. È la metà. Esatto, perché questo è quello che il cammino ti porta a fare e perché te lo insegna per la vita. Sì, esatto. Per noi è stato un piacere oggi avere questo confronto con voi e spero veramente che siamo riusciti a darvi qualche spunto in più e a darvi ancora più voglia di partire. Io vi lascio in descrizione ovviamente la guida in caso in cui state pensando di partire e volete qualche dettaglio, qualche informazione, qualche, non lo so, qualche spunto ulteriore a tutto ciò che vi è stato raccontato oggi. Io vi consiglio di prenderla. Non si sa mai. Meglio un'informazione in più che un e meno poi se puoi metterti nei guai, trovi. Comunque è tutto qui, mi raccomando sbizzarritevi nei commenti perché non vediamo l'ora di rispondere a tutte le domande che avrete da farci. Alla prossima. Ciao. Ciao.